Un caro saluto a tutti e un grande grazie per la vostra vicinanza a me che sto vivendo questa situazione e anche alla diocesi di Rumbach che soffre per quanto è accaduto. Ora io sono in un letto di ospedale dove i medici si stanno prendendo cura di me, hanno visto le gambe che sono state colpite da alcuni proiettili, hanno ripulito le ferite, ricucite e ora stanno seguendo la situazione. Io sto prendendo forza di giorno in giorno e tutto andrà per il meglio. Tornerò a camminare e continuerò il mio servizio missionario come prima. Subito dopo l'attentato, quando sono stato portato all'ospedale di Rumbach, ho avuto una prima operazione ed ero nella sala dove stavo recuperando da quella prima operazione. Molta gente è venuta a farmi visita, ho visto donne, giovani, persone di governo, tante persone che si sentivano di mostrarmi la loro solidarietà. Io sì, ero lì a letto sofferente per questi quattro proiettili che erano nelle mie gambe, ma ho visto che la sofferenza della gente era molto più forte della mia, perché se io avevo una speranza forte anche di guarire o comunque di continuare nell'opera del Vangelo, loro avevano paura che li lasciassi o di avermi in qualche modo deluso. Quindi per questo ho pensato che il messaggio del perdono è l'unico che in questa situazione può portare a una vera giustizia. Si cerca sempre la giustizia, ma si dimentica della misericordia, che è anche molto importante perché sia fatta giustizia. Allora in questo momento cerchiamo che la verità sia fatta perché questi avvenimenti non accadino mai più, ma sappiamo che il Vangelo ci insegna il perdono e da questo perdono può nascere davvero una trasformazione.